Cubio Entella dinanzi ai quasi 1.100 spettatori del Pietro Barbetti per l'andata del primo atto della fase nazionale playoff Serie C. Braglia, alla millesima panchina in carriera tra i professionisti, opta per il 3-4-1-2. C'è Portanovi in difese, Bulevardi sulla tre quarti a supporto di Spina e Di Stefano, panchina per Vasquez. 3-5-2 per Volpe con Zamparo e Fagioli tandem d'attacco, escluso Mercai. Decimo minuto, transizione rosso-blu alimentata da Di Stefano che serve nello spazio centrale Spina, fulmineo nell'aumentare i giri del motore e bruciare in velocità Tomasello, sinistro diagonale che Borra respinge con il piede sinistro in spaccata. Poi calcia Di Stefano ma completamente fuori misura. Al diciottesimo Gaston Ramirez sterza su Di Stefano e calcia col destro dal limite. Di Gennaro in due tempi neutralizza. La gara resta in costante equilibrio con il livello della fisicità che si alza minuto dopo minuto e al 36esimo da un break di Bulevardi è nuovamente Spina ad andare al tiro di sinistra giro, Borra blocca a terra. Al quarantesimo filtrante di Tomasello per Fagioli che va per le terre dopo un contatto con Portanovi in piena area. Tutto regolare per l'arbitro Emanuele Di Pisa tra le timide proteste bianco-celesti. Termina a reti bianche la prima frazione di gioco ma nella ripresa la partita cambia repentinamente. Cinquantesimo minuto, Morelli recupera un gran pallone a Zamparo ed effettua un lancio col contagiri in aria per Di Stefano. Sinistro al volo contratto da Parodi ma la sfera torna di nuovo a Di Stefano che ci riprova. Sadichi fa muro ma nulla può su Bulevardi che col mancino di prima intenzione trafigge Borra per il vantaggio Gubbio. Entusiasmo alle stelle in campo e sugli spalti per la sesta realizzazione stagionale del numero 10 Rosso Blu. Passano due minuti e Spina riceve il tracciante laterale di Portanova scatenandosi sull'out destro in campo aperto portando a spasso Chiosa fino all'ingresso dell'area di rigore. Quando il fantasista nativo di Mileto rientra sul mancino e calcia sul palo lontano. Borra in tuffo respinge ma è pronto per il tapin ravvicinato Di Stefano che sigla l'immediato 2-0 Gubbio. Nona marcatura in stagione la seconda nei playoff per l'attaccante di proprietà della Sampdoria e Rosso Blu in pieno controllo della partita. 120 secondi dopo però Morelli durante un possesso offensivo si strattona con Favale e per l'arbitro Emanuele rifila un colpo proibito all'avversario. Espulsione diretta per Morelli tra le proteste del team e Gubbio costretto a giocare in inferiorità numerica per oltre 35 minuti di partita. Volpe inserisce Clemenza e Mercai passando al 4-3-1-2 innestando poi forze fresche in mediana con Meazzi e Tascone per Corbari e Rada. Bragli inserisce in serie Corsinelli, Toscano, Vasquez, Semeraro e Vitale, Pespina, Bulevardi, Di Stefano, Nicola e Rosaia. Il Gubbio si difende con ordine e determinazione. Lentella cerca di trovare spazi sugli esterni per poi mettere palloni in serie in area di rigore. Ma l'unica vera opportunità arriva al minuto 80, quando Meazzi riceve sulla sinistra e crossa profonda rientrare. Di Gennaro smanaccia in tuffo, il rompe Tomasello che calcia verso la porta ma trova la salvifica chiusura di Semeraro. Dentro anche Zappella per Volpe ed è proprio l'esterno Scuola Empoli a provarci nell'ultimo dei quattro di recupero senza però inquadrare lo specchio della porta. Al triplice fischio finale esulta il Gubbio che grazie ad una prova magistrale ottiene con pieno merito il primo atto della contesa. Spalla al muro invece i Virtussini che nella gara di ritorno fissata per lunedì 22 maggio all'ore 20.30 dovranno necessariamente vincere con due o più gol di scarto per ribaltare la situazione. Davanti c'è una squadra forte che la può ribaltare in dieci minuti. Noi dobbiamo essere felici per quello che abbiamo fatto stasera. I ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto. Poi prepararsi a una battaglia perché sarà una battaglia fin dal primo minuto. E se vogliamo passare il turno dobbiamo ripetere un tipo di prestazione come questa, se no ci buttano fuori. Mi sembra una cosa molto logica visto il valore che hanno i giocatori dell'Entella. Io credo che noi quando facciamo determinate cose le facciamo bene, no? C'è una squadra aggressiva, intensa, che va a prendere gli avversari. Abbiamo sempre cercato di cambiare la mentalità per vedere se si riusciva a sistemarsi un pochino meglio anche in campo e in classifica. Grazie. Grazie.